ciao bambini adesso facciamo un po di tai chi per i bambini che divertente potete giocare con i palloncini mentre fate tai chi potete anche giocare con gli altri giocattoli potete mettervi una bella musica anche quella per i bambini che va bene quindi iniziamo prima di tutto si fa il saluto il saluto parte da un pugnetto aperto che ci vedo dentro che vuol dire attenti perché si sta attenti le dita si erano amici pollice inclinato un pochettino vuol dire obbedienti tutto assieme vuol dire che bello ci alleremo un po nel tai chi e quindi si imparte piedi uniti mi apro sollevo le braccia e apro il castello per prendere il sole poi ci sono gli arcobaleni che mi piacciono tanto sulle spalle in avanti e indietro tre volte poi c'è l'albero con le foglie l'albero con le foglie poi c'è il panda prende il mammo e lo mangia o l'orso poi c'è il passo del pinguino poi c'è il gatto poi la carezza i gattini se siete stanchi giocate un po' e fermate il video perché adesso c'è il tai chi quindi il tai chi si inizia con le gambe unite, apro, salgo, posso prendere il palloncino e respiro col palloncino all'appoggio perché c'è un altro animale bello che l'ailone sgranchisce le gambe e le ali e quindi chiudo le gambe e lo rifaccio apro, salgo, prendo il palloncino e poi l'ailone sgranchisce le gambe e le ali e poi siccome siamo un po' accaldati prima di riprendere il gioco mi ricalgo, mi rilascio e mi raffreddo così no mi viene una tosse quindi apro l'albero e mi raffreddo un pochettino nel senso che non mi deve venire una freddola poi prendo i secchielli della spiaggia e poi posso anche massaggiare e poi di nuovo attenti e felici quindi se vi piace alla prossima ciao ciao ciao